Buongiorno, sono Laura Antichi e vi volevo mostrare come utilizzare HP Reveal per creare realtà aumentata da iPad. Ho scaricato l'applicazione sul mio iPad. Vi ricordo prima di aprirla che HP Reveal è quella che prima era chiamata Aurasma. Vado su apri l'applicazione. Ho fatto clic sulla cerca e mi trovo nell'interfaccia dell'applicazione. Dovrete registrarvi a questa applicazione e a creare un canale personale. Agisco con il più. Mi chiede di a take e foto. Quindi punto la telecamera sulla copertina del libro che voglio recensire. Mi chiede poi di creare un overlay utilizzando elementi che sono presenti dentro l'applicazione nella library. Sono questi, tra cui potrei sceglierne uno che è convergente con il libro e capace di darmi una realtà aumentata sul libro che voglio prendere in esame. Oppure posso andare in device e in upload, posso scegliere upload camera, posso registrare direttamente la recensione che voglio fare del libro. Quindi parto con la registrazione. No, ho fatto la foto, scusate. Voglio fare invece il video. Parto con il video. Alain Bertozzi, la vicarianza, è un libro molto speciale che ha come sottotitolo il nostro cervello, creatore di mondi. Alain Bertozzi, prof. di fisiologia della percezione del Collegio de France, guarda i rivolgimenti che sconvolgono la società e che non sembrano avere soluzione. Propone come rimedio la vicarianza, supplenza di un processo con un altro processo. Che cos'è la vicarianza come rimedio e soluzione? Significa emancipare la realtà e emanciparsi dalla sua morsa e accedere a mondi anche immaginari. La vicarianza può liberare la creatività per esplorare mondi e possibilità diverse. Ecco, fermo l'amministrazione. Alain Bertozzi, la vicarianza. Clicco su Use video. Mi chiede di mettere opzionalmente il nome del mio overlay e metterò... Beh, va bene, Bertozzi. Vicarianza. 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 Ok. E quindi faccio Done. Clicco su Done. Mi sta elaborando l'overlay. Ok. Allain Bertozzi, la vicarianza. è un libro molto speciale che ha come sottotitolo il nostro cervello, creatore di mondi. Allain Bertozzi è prof di fisiologia della percezione del Collegio de France, guarda i rivolgimenti che sconvolgono la società e che non sembra avere soluzione. Propone come rimedio la vicarianza, supplenza di un processo con un altro processo. Che cos'è la vicarianza come rimedio e soluzione? significa emancipare la realtà e emanciparsi dalla sua morsa e accedere a mondi anche immaginari. La vicarianza può liberare la creatività per esplorare mondi e possibilità diverse. Faccio su Next e mi chiede il nome, scrivo di mettere il nome, name. Allora faccio Bertozzi di carianza. Ok, mi chiede se metterò il nome qua. Allora Bertozzi di carianza. Ok, mi chiede poi dove create a new channel oppure usare uno di quelli esistenti. Clicco su l'Antichis Public Auras e faccio Submit. Ok. E quindi mi dà la possibilità di, con share che è qui sotto, di condividere il video, la mia aura sui social e salvarlo in Dropbox eccetera eccetera e altro. Faccio clic su Done. Ok, Done. E il mio lavoro è ultimato. Ora dovrò solo scoprire se tutto ha funzionato. Per farlo clicco in basso sul quadratino che troviamo nell'applicazione. Vado a individuare il trigger, l'immagine che ho utilizzato. Ecco la registrazione è partita. di Alain Bertozzi, la vicarianza. E come vedete. Ok. Ok. E quindi, come vedete, l'applicazione ha funzionato. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.